Numero 3. La Smart TV iSense A6K da 55 pollici offre un'esperienza di visione coinvolgente grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia. Con una risoluzione di 3840 x 2160px e una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, lo schermo porta i contenuti a un nuovo livello di dettaglio e fluidità. La presenza di tecnologie come Olme e VRR48-60Hz garantisce inoltre una perfetta sincronizzazione tra audio e video. Il sistema audio 2.0 con DTS Virtual X completa l'esperienza multimediale, anche se la potenza di 16 Watt potrebbe risultare poco brillante in ambienti rumorosi. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2. La iSense U8K Q 55 pollici è una Smart TV di ultima generazione che offre prestazioni di altissimo livello. Grazie allo schermo LED retroilluminato mini LED e alla risoluzione 3840 x 2160px, le immagini sono nitide e dai colori vividi. L'audio 2.1.2 con una potenza di 40 Watt, supportato da tecnologie come Dolby Atmos e DTS Virtual X, garantisce un'esperienza sonora immersiva. Questo modello si distingue anche per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze. Infatti è ottima sia per il gaming che per godersi un film o una serie TV grazie anche ad Dolby Vision. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. iSense A4K 40 pollici è una Smart TV che offre una buona qualità audio grazie alle sue casse stereo DTX e diverse opzioni di porte per connettere dispositivi audio esterni. Tuttavia, pecca nella funzionalità HDR e nella mancanza di Bluetooth. Il display LED offre una risoluzione Full HD e un refresh rate di 60 Hz. Il sistema operativo è Vida A, compatibile con l'assistente vocale Alexa. La televisione supporta il Wi-Fi Dual Band e ha molte porte HDMI e USB 2.0. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Grazie a tutti.